Dottore pronto per scalata incredibile su Vulcano. Oggi Dottore è alzato alle quattro e mezza del mattino come vecchi tempi perché Dottore è esperto in scalata sin da giovane. Dottore ha preparato zaino con crauti, fuster, bussola. Dottore con lava di Vulcano fare anche caffè. Andiamo! Dottore scherzava non poter fare scalata di Vulcano perché Dottore è no esperto. Dottore è muscoloso solo in cervello. Oggi Dottore è costruire Vulcano su questo tavolo e utilizzare micro Dottore al posto di Dottore vero è proprio che posizionare sul Vulcano è ruttante. Se Dottore è forte Dottore sopravvive. Dottore è oggi Dottore fare esperimento molto molto difficile come se gli altri non lo fossero. Insegnare voi essere inferiori cosa essere Vulcano. Cosa dice Vulcano appena nato Magma? Qualcuno mi dia steccata di legno. Grazie. Per fare Vulcano Dottore mettere all'interno di Carabba sapone per piatti. Mettere tanto sapone per piatti. Terzare restante parte di caraffa con aceto. Adesso Dottore mescolare. No Dottore prima di inserire questo. Dottore è dimenticato. Quanto dovrà mettere? Dottore può smettere? Dottore bomba. Girare il miscuglio. Non capire già cosa stare facendo e vitre appena iniziato. Per creare struttura di Vulcano Dottore utilizzare cazzetta. Scegliere singola pagina da accartociare per poter creare struttura. Una volta preso un pezzo di scotch Dottore fare base di Vulcano. Mentre Dottore costruire Vulcano per passare tempo Dottore ascoltare radio tedesca preferita. Dottore finito Vulcano completamente senza aiuti. Con lo scotch fai il pezzettino e inizi. Uno, due, tre, quattro. E capire che c***o sto facendo io. E basta. Vulcano quasi completato. Mancare ovviamente eruzione di figli di Vulcano. Bicarbonato. Dover inserire bomba di bicarbonato dentro Vulcano. Ma per poter inserire bomba di bicarbonato creiamo croce di carte de culo. Inserire diversi cucchiai di bicarbonato in carta igienica per bomba di bicarbonato. Cosa più importante vediamo se Dottore Miniatura sopravvive o muore. Dottore adesso pronto per esperimento. Dottore sentire adrenalina. Dottore non solo sopravvissuto. Dottore interventato. E Vulcano finalmente funziona. Incredibile. Non fatelo a casa amici esseri inferiori perché sennò poter avere problemi in famiglia. Dottore assicurare. Dottore è sopravvissuto a esperimento. Quindi Dottore è disponibile per altro esperimento incredibile. Prossime settimane. Dottore concludere il video qua. Sperare che vi sia piaciuto. Lasciare il pollicione in alto. Come sempre Dottore vi da appuntamento ad una prossima lezione di cose belle e magiche. Ciao. Ciao.